Voi invece che le pensate di questa partita? Insomma, è andato male il risultato, però siamo potuti tornare al Polazzetto, seppur il numero contingentato. Questa è una nota più o meno positiva. Pottissima cosa. Si ritorna a Polazzetto dopo, ma non è in mezzo. Di più. L'ultima partita qui è stata a febbraio 2020. Però... Io sono contento, è stata una bella partita, mi sono piaciuto. Abbiamo perso. Chi è piaciuto di più? Chi è stato uno dei migliori? Io dico il fratello, Angelo. Angelo perché? E' di parte lui. E poi? Ah, comunque è vero. Poi... Staccaggi, messo un po' di punti, sono due, gli principali. Vero. E degli altri? Gai, stacca bravo. Un bel movimento tu. Gli altri capolosani? Sì. Ken. King. King, i nostri educatori. Grazie. Grazie.